Allora, salve a tutti. Questa di stasera è una recensione un po' atipica, ma dovete sapere che sul mio gruppo, sul mio gruppo Facebook, che si chiama Che Bello, il gruppo di Che Bella la sigaretta elettronica, faccio dei sondaggi nei quali invito, va bene, i facenti parti del gruppo, va bene, a esprimere la loro opinione e decidere così quale sarà la prossima recensione. E quindi chiedo, cosa vorreste che io recensisca la prossima volta? Allora, in questo sondaggio c'era scritto KV Otto Nano, c'era la English Ace di Vapor Cave, tra le opzioni c'era il fatto che io avessi dovuto recensire, avrei dovuto recensire un dipinto di De Chirico, e questa opzione ha vinto, e dunque mi trovo costretto a fare la recensione direttamente di De Chirico. E per fare ciò dovrò indossare un abbigliamento adeguato. Recensione di De Chirico. Allora, salve a tutti, eccomi qui in abbigliamento adeguato all'occasione, come vedete ho un bellissimo cappello e una bellissima cravatta. Quindi oggi facciamo una recensione molto seria. Oggi recensiremo una foto di Giorgio De Chirico con un gatto bianco spastico con gli occhiali. Bene, ecco, allora, possiamo osservare intanto sullo sfondo, va bene, questo quadro che è la Gioconda. No, vero? Che è la Gioconda, e qui praticamente invece c'è, con questa cornice molto bella, questa cornice, caro mio, questa costa tipo qualcosa come 40-50 mila lire al metro, quindi Cioè, ci sono un sacco di soldi qua, non è che è una cosa così. Guardate che simbatico, guarda che simbatico Giorgio De Chirico, il tratto deciso, va bene, il doppio mento da gran signore, va bene, l'orecchio perfettamente proporzionato a tutto il viso, guarda che naso importante aveva Giorgio De Chirico. L'occhio dolce, guarda il taglio dell'occhio dolce di Giorgio De Chirico, questo è meraviglioso Giorgio De Chirico. Guarda il capello, perfettamente sistemato con la scrima di lato, va bene, guarda, colletto bianco, va bene, golfino, diciamo, a coste piuttosto strette, guarda che simbatico. E poi abbiamo questo simbatico gatto spastico con gli occhiali, gli occhiali blu è di marca Miu Miu, non so se... Gatto che però, come potete osservare dallo sguardo, gatto che non è felicissimo, va bene, di posare per questo fotoritratto, va bene. Lo si denota anche dalla zampa, guarda, la zampa che, diciamo, è in una posizione difensiva, quasi a volersi allontanare dal perimetro, va bene, dove si sta svolgendo. Ragazzi, ma io non le so fare le recensioni di cose d'arte, e che cazzo sono Di Pre? Eh, cioè, dai, che poi Di Pre non è un critico d'arte, sono un testa di cazzo che... E quindi questo. Quindi questa è la recensione di una foto di Giorgio De Chirico con un gatto spastico con gli occhiali. Ci vediamo domani per la recensione della English Ace di Vapor Cave. Grazie per aver seguito questo video, vi invito a iscrivervi al canale Che Bella la sigaretta elettronica, cliccate anche su... Walter, abbiamo fatto la recensione peggiore di tutti i tempi, lo possiamo affermare? La peggiore di quest'anno, secondo me di tutti i tempi. Vabbè, fermiamoci a quest'anno. Grazie, una buona serata. Grazie a tutti.